Buongiorno a tutti anche da parte mia, mi chiamo Rolando Del Fabro, sono responsabile tecnico di Manica per l'Italia e anche in particolare per il Trentino Alto Adige. Oggi parliamo di Drupace, questo è il programma, Drupace con delle strategie di difesa residuo zero, questo è un po' il leitmotiv dei nostri webinar, proprio perché Manica negli ultimi anni sta sviluppando una serie di prodotti che non lasciano residuo, quindi che vanno bene sia per la lotta integrata che per la lotta biologica. Oggi vi parlerò di batteriosi, appunto dei nuovi studi, nuove prove fatti con i nostri formulati a base di rame, Mauro è il mio collega e per il Centro Sud Italia parlerà del Limosid, appunto un prodotto a base di olio d'arancio multi target che non lascia residuo e poi vi parleremo insieme della Moniglia, ovvero uno dei problemi emergenti negli ultimi anni nel mondo delle Drupace, soprattutto anche al Centro Nord Italia e parlando appunto di un fungo antagonista della Moniglia che è appunto presente nel formulato commerciale Botector. Direi che possiamo partire, come appunto vi ho già accennato Manica negli ultimi anni sta lanciando e sta delle nuove strategie di difesa non solo a base di prodotti rameici o agrofarmaci di sintesi, ma stiamo anche sviluppando e studiando delle sostanze naturali nuove, tra cui appunto il prodotto Limosid che a base di olio essenziale d'arancio, stiamo mettendo in catalogo dei biostimolanti come Optisil che a base di silicio e dei corroboranti come appunto il tannino che è appunto sotto forma di, cioè il nome commerciale è estratto di castagno e appunto è un formulato a base di tannini. Tutto questo concorre per quella protezione che noi appunto chiamiamo fisioprotezione, ovvero difendere le piante e rinforzare la loro fisiologia, quindi difenderle non solo con una strategia chimica, ma anche rinforzandole al loro interno. Manica da un paio d'anni sta promuovendo una campagna denominata Purity Cult, ovvero culto della purezza, proprio perché vogliamo sottolineare quanto i nostri prodotti rameici siano puri e esenti da cross contaminanti. Quindi prima appunto di iniziare vi facciamo vedere appunto questo video che vi spiega questa teoria. Grazie. 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 di natura. Una delle sostanze che ritroviamo all'interno dei nostri microgranuli idrodispersibili è il ligninsulfonato. Questa sostanza deriva dal legno, in particolare dalle conifere e consente di produrre i nostri microgranuli con un livello di sostenibilità molto elevato. In Manica abbiamo linee produttive dedicate alla produzione di prodotti biologici, di mezzi tecnici biologici e alla produzione di prodotti per il convenzionale. Questa separazione ci garantisce il totale controllo di rischi di cross contamination. Nonostante questo abbiamo già da anni deciso di fare delle scelte industriali importanti come quelle di abbandonare completamente l'utilizzo dei fosfiti all'interno delle nostre linee produttive che non vengono né prodotti né tanto meno confezionati. Un'eccellenza in Manica è la ricerca. In Manica abbiamo un team di ricerca e sviluppo molto forte che sta sviluppando prodotti biologici, ammessi in agricoltura biologica, che consentono non solo di apportare a questo tipo di agricoltura a nuove soluzioni tecniche, ma anche di supportare l'agricoltura convenzionale nel ridurre il più possibile l'intervento chimico. Manica opera da sempre in Trentino in un ecosistema tra i più belli d'Europa, dove convivono industria e paesaggio rurale nel totale rispetto dell'ambiente circostante secondo i principi della chimica verde. L'adozione di produzione a bassissimo impatto ambientale consente di minimizzare la generazione di rifiuti immettendo sul mercato i prodotti rameici più puri al mondo. Il rame è fondamentale per ogni essere vivente, perché fa parte della nostra storia, della nostra vita e della biosfera in cui viviamo. Manica ha focalizzato la sua mission sulla purezza con una scelta chiara e indiscutibile di sostenibilità, grazie all'efficacia e alla sicurezza di questo elemento naturale. Ok, un attimo, perfetto, quindi possiamo partire con la prima presentazione, appunto batteriosi, un valore di aiuto dal rame. Come appunto ho già detto nel video, manica che è specializzata da anni, già dal 1948 che produce sali di rame e appunto gli impianti manica sono dedicate alla produzione di agrofarmaci rameici, abbiamo più linee di formulazione e quindi noi non, la probabilità di contaminare con altri principi attivi i nostri formulati rameici è nulla. Di conseguenza questa caratteristica rende i nostri formulati a base di rame senza altri residui e quindi in linea con le direttive per l'agricoltura biologica. Per questo appunto forniamo a chi fa questo tipo di produzioni o chi è interessato a avere una certificazione sui prodotti rameici anche delle certificazioni o dichiarazioni dove appunto diciamo che i nostri formulati a base di poltiglio, cicloruro piuttosto che tribasico sono esenti da altri principi attivi di sintesi quali i fosfiti o esenti anche da clorati, per clorati e sali di ammonio quaternario. Inoltre nell'ultimo periodo abbiamo fatto una certificazione con Fibel che è un ente svizzero per il biologico dove appunto sta stilando una lista europea di input per l'agricoltura biologica e abbiamo appunto registrato la nostra poltiglia 20 VG Green come appunto formulato utilizzabile per chi appunto in agricoltura biologica o biodinamica. È ovvio che tutti i rameici sono autorizzati in agricoltura biologica però queste dichiarazioni certificano anche i coformulanti. Negli ultimi due anni sono cambiate molte cose sulle etichette dei prodotti a base di rame e anche le nostre etichette sono cambiate molto soprattutto per le drupacee. Drupacee noi intendiamo appunto sia tutte le appunto pesco, albicocco, nettarino, ciliegio e susino ma anche il mandorlo che in realtà nelle nostre etichette è autorizzato come fruttifero a guscio in quanto il mandorlo avendo un guscio duro viene trattato secondo il regolamento europeo come appunto un fruttifero a guscio quindi più come un nocciolo e come una nocce proprio perché il residuo è diverso e non si mangia la buccia fondamentalmente. Cos'è che è cambiato rispetto alle etichette prima del 2018 dove c'erano molte più colture, molti più usi? Ci sono dosaggi più bassi e quindi più moderni. C'è stata una limitazione dei 28 kg in 7 anni con un massimo di 6 kg a ettaro per anno. C'è un dosaggio sia per ettaro che per etolitro, un numero massimo di trattamenti e un intervallo minimo tra un trattamento e l'altro, una buffer zone, cioè una distanza dei corpi editi superficiali, ovvero fiumi e torrenti. C'è stata una cancellazione quindi una perdita di alcune colture ma anche un ampliamento di altri usi in cui vedremo e un cambio di tempi di carenza soprattutto per ravite e pomace. C'è da distinguere due gruppi per i nostri formulati a base di rame, le potiglie bordolesi che appunto noi le produciamo sia in polvere e microgranuli che liquidi, le quali hanno avuto questi nuovi usi, ovvero il pesco, il nettarino e l'albicocco per applicazioni in vegetazione e non più solo al bruno, quindi le classiche applicazioni di formulati rameici di un tempo appunto dove si faceva il trattamento caduta foglie e prefiorale, ma abbiamo avuto l'estensione anche al postfiorale come target batteri, soprattutto per il pesco nettarino e corineo e inoltre abbiamo avuto anche l'uso in vegetazione su actinidia, per la batteriosi sempre. Ci sono dei tempi di carenza quindi diversi giorni e dove appunto per il mandorlo sono 14 giorni, mentre invece per il pesco nettarino e l'albicocco in vegetazione 21. È chiaro che sono autorizzate anche il susino e il ciliegio però in prefioritura per le poltiglie bordolesi. Per gli ossicloruri di rame invece cambia leggermente e anziché l'albicocco in vegetazione è stato autorizzato il ciliegio, questo per ragioni regolatorie e non di efficacia. Comunque abbiamo sempre il pesco nettarino e controbatteri e corineo e un altro uso nuovo che non c'entra col mondo delle adrupacee però è stato anche il peperone. Anche qua i tempi di carenza sono sempre gli stessi, 14 per mandorlo e 21 per pesco nettarino e ciliegio. Ecco una scelta nostra è quella di non aver autorizzato il susino in vegetazione perché è vero che le batteriosi del susino sono molto importanti però il susino è molto sensibile al rame quindi bisogna stare molto attenti qualora uno volesse fare il rame su susino. Ecco l'evoluzione dei prodotti a base di rame sono i cosiddetti flowable cioè quelli in formulazione liquida e noi ne abbiamo due il bordo flow new che appunto è una poltiglia bordolese e l'ossiclor 20 flow. Le caratteristiche di questi formulati sono ben note ovvero la elevata finezza delle particelle e la stabilità nel tempo oltre che la forte attività cioè lo ione rame molto attivo e l'adesività nel senso che si legano meglio la vegetazione trattata. Ultima ma non per importanza la caratteristica è del basso dosaggio per etero ovvero che vanno a dosaggi di rame molto bassi in linea con le nuove normative. Hanno una miscibilità ottima grazie al pH neutro hanno la formulazione a base acqua quindi sono dei formulati liquidi non a base olio o base qualcos'altro sono a base acqua. Si possono miscelare con molti altri agrofarmaci tra cui quelli appunto che vedete in lista diciamo spiccano lo zolfo anche i piretroidi vabbè il manco zeb adesso è stato l'ultimo anno però è veramente stato testato con molti con molti principi attivi e anche la confezione in linea con le nuove normative o le nuove come posso dire nuove regole di ridurre il packaging e per quanto riguarda appunto lo smaltimento come potete vedere la confezione politainera occupa meno spazio e pesa il 60% in meno rispetto a una tannica classica. Quindi si evita anche l'ingombro delle tanniche una volta poi finito il prodotto. Ecco un'altra cosa molto importante dei prodotti flowable è l'elevata selettività soprattutto per le drupacee sapete le drupacee sono molto sensibili al rame e noi abbiamo fatto delle prove che ci hanno appunto dato anche l'autorizzazione per l'utilizzo in post fioritura. I nostri prodotti non sporcano i frutti anche dopo trattamenti ripetuti fino a 5 e bordo flow new ad esempio non ha neanche nessun intervallo tra un trattamento e l'altro che è ideale per il discorso di quaderni di campagna. Ecco parlando appunto di bordo flow new questa vedete è l'etichetta dove qua riportiamo tutte le colture e solo appunto per pesco, nezzarino al bicocco si può utilizzare in post fioritura contro le batteriosi all'usaggio di circa 2 litri e mezzo per ettaro fino a 6 volte. La buffer zone è di 20 metri al bruno e 5 metri in post fioritura proprio perché esiste una parete vegetativa e quindi si può appunto anche andare più in prossimità delle aree acquatiche. La prima prova che vorrei farvi vedere quindi un po' di dati a supporto di queste etichette è la prova che abbiamo fatto con un centro di disagio dell'Emilia Romagna Astra su pesco e la varietà era Royal Lee e il target è Xanto Monas Campestris che è una delle principali batteriosi del pesco. Il protocollo neanche farlo apposta appunto era con un mancozeb di riferimento e un non trattato chiaramente e bordo flow new a 2 litri e mezzo per ettaro. Due applicazioni a distanza di 8 giorni, il 2 maggio e il 10 maggio e questa prova l'abbiamo fatto un paio di anni fa e tuttavia oggi è sempre molto più attuale proprio perché il mancozeb è in fase di revoca quindi il 2021 sarà l'ultimo anno e quindi chi fa adrupace avrà sempre meno armi per combattere sia i funghi che le batteriosi. In realtà in questa prova abbiamo visto che il rame su questo batterio è molto più efficace del mancozeb tant'è che sia in termini di frutti colpiti che di superficie colpita, cioè quelle picchiettature che fanno sul frutto e è andato il rame, bordo flow new in questo caso, è andato molto meglio rispetto al non trattato, rispetto al mancozeb. Questo appunto non ha dato problemi di fitotossicità chiaramente. Questo è molto importante proprio alla luce appunto della revoca di questo principio attivo. Un'altra prova fatta l'anno scorso o due anni fa è stata fatta sempre in Romagna e in questo caso su albicocco, su cultivar l'edicot, qui c'è un errore, in questo caso il target era pseudomonas siringe, anche qui per capire l'attività battericida e la fitotossicità. Era una prova multi sponsor, nel senso che c'erano vari prodotti in prova. Il prodotto di riferimento era a bordo flow new, il nostro rameico, dove erano state fatte tre prove al bruno, quindi in due a 50 e 100% di caduta foglie e una a rottura gemme, quindi al dosaggio di 800 ml ettolitro e poi quattro applicazioni in vegetazione, dove appunto ogni 7-10 giorni, quindi erano applicazioni primaverili. E c'erano appunto dei formulati in test, dei formulati non autorizzati come questo LMA o dei formulati non a base di rame come la cibenzolare smetile, aminoacidi o microorganismi. E quali sono stati un po' i risultati? I risultati sono stati buoni, nel senso per chi ha usato rame. Le migliori tesi sono state la 2, la 5 e la 7, come potete vedere nei commenti della prova. Ho voluto proprio riportarli per intero senza trascriverli, proprio per far vedere che sono veritieri. Quindi il trattamento 2, bordo flow new al bruno e bordo flow new in vegetazione, trattamento 5, cupravit e serenade e 7, poltiglia disper più LMA, sono stati migliori. In realtà però il 7 non è confrontabile perché LMA non è registrato, è un prodotto che non verrà neanche mai registrato in Europa. Qui vedete appunto quanto i frutti colpiti, nel non trattato 117 frutti colpiti, nel bordo flow new 46 e nella tesi 5 47, quindi sono andati uguali. È chiaro che la tesi 2 è molto più economica della tesi 5. Mentre invece le altre tesi, vedete in rosso, vuol dire che non si sono discostate statisticamente dal non trattato e in giallo che sono andate così, così. Quanti kg di rame abbiamo utilizzato nella tesi 2? 3,5, quindi con 3,5 kg di rame siamo riusciti a difenderci in maniera buona da questo batterio. Quindi questa è una tesi a residuo 0, nel senso che il rame è già presente nel non trattato, poiché le albicocche hanno di per sé dentro un certo quantitativo di rame. Ecco, qui la selettività, come vedete 0, non c'erano macchie necrotiche nella tesi 2, c'erano un po' di macchie necrotiche nel formulato in prova qua, siglato, ma questo non ci interessa. Quindi anche qua nessun problema di fitotossicità. Passando all'altro formulato liquido che abbiamo in catalogo e passando anche ad altri tipi di drupace, vorrei farvi notare appunto l'etichetta sui fruttiferi a gusci, in questo caso ci interessa il mandorlo, che va da 1,7 litro a 6,7 litri, con 3 applicazioni al massimo. Quindi possiamo fare trattamenti autunno-vernini e anche primaverili e estivi con questo formulato. Vi parlo di mandorlo perché è una coltura in crescita, è una coltura che si sta sviluppando in Spagna soprattutto, ma anche in Italia negli ultimi anni e uno dei problemi maggiori è l'oxantomonas, la batteriose anche in questa coltura. Questo batterio ha una temperatura ideale da 15 a 34 gradi con un optimum di 20-30 gradi e un'umidità relativa del 40% circa. le condizioni per l'infezione sono da temperatura appunto da 20 e 30 gradi e da 3 a 6 ore di bagnatura. Le manifestazioni dei sintomi sono al 150 gradi giorno e si ha circa 5% di severità. qui è un po' il ciclo del patogeno, quindi c'è una... come tanti batteri si disperdono con la pioggia e il vento, avviene un'infezione che poi può dare origine a un'infezione anche secondaria. C'è una fase, un periodo di dormienza appunto nei cancri e nelle foglie al suolo durante l'inverno, per poi ricolonizzare con l'aumento delle temperature. Ha una fase sia epifitica che parassitica questo batterio. Questa è una prova fatta in collaborazione con la nostra filiale spagnola, Manica Cobre, con un centro molto importante per la Spagna e la regione di Leida, che è Irta. Praticamente, come potete vedere, appunto qui abbiamo voluto studiare l'attività battericida e l'eventuale fitotossicità di questi formulati rameici, come vediamo dopo, su Xanto Monas Campestris. Questi erano poi il protocollo. È stato fatto un testimone non trattato, un testimone, una tesi aziendale con un ciclor 50, quindi un cicloruro al 50%, un trattamento al bruno, quindi prefiorale, e 6 trattamenti in post-fioritura, come vedete dalle fotografie sotto. Queste sono le epoche dei trattamenti. La tesi 3, denominata Manica 1, appunto, con un ciclor 20 flow, a mezzo litro un trattamento e poi 120 cc per etolitro per 6 volte e 3,10 kg di rame. E una tesi 4 mista, diciamo, una poltiglia bordolese, un cicloruro di rame e un ciclor venticlor. Questo, appunto, anche per vedere il comportamento della poltiglia in polvere. Andiamo ai risultati. Questa è l'incidenza, quindi la valutazione è fatta 15 giorni prima della raccolta. Sul non trattato, vedevate, c'era un 89% di frutti colpiti e nello standard, tra virgolette, quello con l'ossiclor 50, un 47%, quindi statisticamente sono tutti uguali. Tuttavia, come vedremo anche nella severità, qui vedete, appunto, la severità, quindi la percentuale di frutti colpiti, cioè la superficie di frutti colpiti. praticamente la tesi migliore e più efficace è ossiclor 20 flow. È ossiclor 20 flow con 3,10 kg di rame in metallo, anziché i 4,25 kg utilizzati sotto forma di un cicloruro di rame al 50% in polvere. Quindi, con un cicloruro liquido, praticamente, possiamo risparmiare circa un chilo di rame, che, appunto, negli ultimi anni è sempre meglio risparmiarlo. Bene, se non avete domande, io per la parte delle batteriosi ho finito e passo la linea a Mauro, che vi parlerà del limosid. Prego, Mauro. Salve, buonasera a tutti. Per chi non mi conoscesse, sono Paolini Mauro, Field Advisor Centro Sud Italia per quanto riguarda Manica. Io oggi vi parlerò del limucide, che è un agrofarmaco registrato come insetticida e fungicida, a base di olio essenziale di arancia dolce a 60 grammi litro, ha una formulazione liquida e, ovviamente, è autorizzato in agricoltura biologica. Qual è il meccanismo di azione del limucide? Il limucide è un prodotto che lavora per contatto con un meccanismo di azione sostanzialmente fisico, ovvero lavora per disidratazione, sostanzialmente agisce sui fosfolipidi, rompe la parete cellulare e, di conseguenza, viene fuori acqua dalla cellula e quindi tutto ciò provoca la morte cellulare, appunto per mancanza di acqua, per disidratazione. Di conseguenza, su quali organi agisce questo limucide? Sul micelio fungino, ovviamente, sulle spore, che anche esse hanno un percentuale di acqua all'interno e sulla cuticola degli insetti a corpo molle, come, ad esempio, aleuroidi, afidi, tripidi, afidi, eccetera. Inoltre, interessante, non ha gruppo né FLAC né IRAC, quindi non ha problemi per quanto riguarda la resistenza. Questo limucide è autorizzato su pesco, registrato su pesco contro oidio e afidi. Il volume da utilizzare è 6 litri per ettaro, però in realtà questo è un agrofarmaco dove si tiene ben presente la concentrazione, quindi 600 ml a ettolitro di volume d'acqua utilizzata per il trattamento e di conseguenza, tenendo fissi la concentrazione, di conseguenza se utilizziamo meno acqua, di conseguenza utilizziamo anche meno prodotto e quindi andiamo anche a risparmiare a livello economico. Sugli afidi vedete il punto, l'asse di risco perché è ancora in corso di registrazione. Appunto, come accennavamo precedentemente, il limucide è un prodotto che va a concentrazione, nel senso che noi dobbiamo, in base al target, dobbiamo avere ben presenti e fissa la concentrazione che noi andiamo a utilizzare. Se le temperature aumentano, quindi sono superiori a 28 gradi, può essere anche diminuita questa concentrazione dello 0,2%, quindi si potrebbe passare dallo 0,6, da 600 ml per ettolitro a 400 ml per ettolitro. Più è caldo, più c'è caldo e più funziona il prodotto. Ovviamente, lavorando per disidratazione, è normale che sia così. Per quanto riguarda le miscele con gli zolfi bagnabili, vanno aggiunti al massimo 2 kg ad ettoro, per quanto riguarda lo zolfo all'80%. Con temperature superiori a una determinata soglia, nel senso che se noi lavoriamo con magari 18 gradi, possiamo anche mettere un chilo o due chili di zolfo in più. Invece, se lavoriamo su temperature superiori ai 25 gradi, conviene attenersi con due chili massimo di zolfo ad ettaro. Quali sono le fasi delle malattie dove l'emocidio agisce? Se prendiamo come esempio l'oidio, il prodotto agisce sostanzialmente su tutte le fasi dell'oidio, ovvero sia sui gonidi, come vediamo nelle immagini 1, 2 e 3, sia per quanto riguarda il micelio, quindi come azione curativa, e sia come azione eradicante, quindi di conseguenza sulle sporulazioni, nell'immagine indicata con il numero 5. Quindi su oidio andiamo a lavorare su tutte le fasi della malattia. Per quanto riguarda il meccanismo come insetticida, naturalmente anche qui, lavorando per disidratazione, va a estrapolare l'acqua dalla cuticola degli insetti con corpo molle e di conseguenza provoca la disidratazione e la morte. Qui abbiamo un esempio in foto su afide verde, dove nell'arco di due ore già l'insetto sostanzialmente non è più in grado di arrecare danni e 24 ore dopo si ha la morte dell'insetto, dell'afide. Ovviamente è un prodotto che agisce per contatto, quindi il prodotto deve arrivare sul corpo dell'insetto, quindi se abbiamo foglie particolarmente arricciate dobbiamo stare attenti nel fare il trattamento perché non è un sistemico, quindi se non raggiunge l'insetto ovviamente l'afide non funziona. Qui abbiamo un altro esempio su afide farinoso, vediamo qui il non trattato su pesco e il trattamento 24 ore dopo con il limocide su pesco. Ovviamente anche qui c'è la morte dell'insetto che diventa nero e fa in necrosi anche lui e muore. Per quanto riguarda un aspetto importante del limocide sono gli insetti utili, perché sappiamo che sono sempre più utilizzati per l'agricoltura biologica. Se noi teniamo presente un programma di lotta appunto con insetti utili e limocide, possiamo tranquillamente lavorare, nel senso che possiamo tranquillamente fare il nostro piano di difesa, tenendo presente alcuni fattori. Ad esempio il lancio degli insetti utili può essere fatto già subito dopo 24 ore l'ultimo trattamento con limocide, in quanto il limocide non è un prodotto persistente. Di conseguenza se noi facciamo il trattamento, già dopo 24 ore possiamo andare a lanciare gli insetti utili. Poi, oppure iniziamo i trattamenti una volta che gli insetti utili si sono ben insegnati, ben affrancati. Quindi abbiamo una popolazione tale che piccole defiance a causa di limocide, se ci dovrebbero essere, non creano problemi appunto a livello di massa critica generale di insetti utili. In alcuni casi facciamo il trattamento con limocide in un momento in cui abbiamo il predatore e non il fitofago, come ad esempio negli insetti con abitudini notturne. Vai avanti. Altro aspetto interessante, se il limocide arreca qualche piccolo danno alla popolazione dell'insetto utile, comunque è abbastanza trascurabile, non è significativa, in quanto questo non agisce per quanto riguarda sulla riproduzione dell'insetto. Di conseguenza abbiamo soltanto quel piccolo danno, se ci dovesse essere, alla popolazione in generale, ma non abbiamo problemi sulla riproduzione. Di conseguenza tutto ciò risulta trascurabile e quindi compatibile. Qui abbiamo qualche esempio su acari predatori. Vediamo che il limocide è messo a confronto con il bifentrino, adesso insetticide che adesso non è stato revocato. Comunque andiamo a vedere che la classe OILB, ovvero la classe di letalità oppure selettività, a seconda dei punti di vista per gli insetti utili, vediamo che mentre il bifentrino è una classe sostanzialmente 4 su tutti, invece il limocide in tutti gli acari abbiamo la classe 1, dove andiamo a vedere che le defiance, le morti delle forme mobile e gli insetti utili sono praticamente trascurabili. Ad esempio sul persimilis, sul phytosellium persimilis, su 365 forme mobili ne ritroviamo 360, quindi il 98%. Quindi il danno è sostanzialmente trascurabile. Stessa cosa sullo swirciki e sugli altri, quindi come percentuale arriviamo massimo a un 5-6% di danno sull'insetto utili, sulla popolazione di insetto utili. Stessa cosa sui coccinelli di predatori, dove vediamo che anche qui rispetto al bifentrin, la classe OIL risulta sempre classe 1, quindi verde e di conseguenza trascurabile, danno trascurabile. Vai avanti. Per quanto riguarda il limocide, poi magari se ci sono domande risponderemo. Potete inserirle sulla sezione che trovate in basso, D ed R, quindi in seguito andremo a rispondere. Diciamo che per il limocide al momento è registrato solo su Pesco, quindi è per l'OIDIO. Quindi è un po' una registrazione, come posso dire, non completa per le drupacee. Tuttavia il Pesco ha grossi problemi di afidi, tant'è che è in corso di registrazione, probabilmente tra il 2022, speriamo, però proprio perché su tanti altri tipi di afidi funziona bene. Abbiamo fatto un convegno sulle pomace e sugli afidi delle pomace abbiamo visto i buoni risultati. Quindi appena avremo anche l'estensione sugli afidi delle drupacee, del Pesco, vi faremo sapere. Certo. Adesso cambiamo argomento, parleremo di moniglia, o meglio parleremo del nostro antibotritico, insomma antimuffa, antimonirico, biologico, chiamato botecto. Che cos'è il botecto? È un fungicida microbiologico a base di Aureobasillium purulans. Che cos'è l'Aureobasillium? È un fungo antagonista. Questo lavora per competizione contro botrite e moniglie, sostanzialmente, contro le muffe, ma soprattutto botrite e le diverse specie di moniglie. Questo prodotto è formato da due ceppi, i quali sono i più efficaci e soprattutto sono resistenti a condizioni di stress idrico e alle alte temperature. Quindi, diciamo, sono stati selezionati questi ceppi, oltre che per la loro capacità fungicida, o meglio, di antagonismo sui funghi, anche per la loro resistenza, che soprattutto in alcuni periodi è molto importante. Qual è il meccanismo d'azione? Sostanzialmente, come abbiamo detto, è un fungo antagonista. Quindi, va ad occupare sia lo spazio dove si va ad insediare la botrite o la moniglia, e sia va a competere per elementi nutritivi. Qui vediamo un esempio dove una microlesione sul frutto sito di insediamento della botrite viene attaccata e, tra virgolette, otturata dal nostro aerobasillium. Di conseguenza, quando il fungo arriva, antagonista, trova il proprio spazio già occupato dall'aerobasillium che non fa danno appunto al fungo stesso. Anzi, è interessante perché comunque anche questo è un no fracco, ovvero non ha problemi per quanto riguarda la resistenza. Un aspetto importante dell'aerobasillium è sicuramente la resistenza al dilavamento. L'aerobasillium già è presente in natura. Noi con un solo trattamento di Botector, new, che facciamo, sostanzialmente l'aerobasillium cresce del 160%. Se poi dopo 24 ore simuliamo una pioggia di 20 mm in 5 minuti, abbiamo un effetto quasi opposto, nel senso che non abbiamo il dilavamento, ma abbiamo quest'umidità della pioggia che aiuta l'aerobasillium, è un propellente per la riproduzione, per la replicazione dell'aerobasillium e quindi abbiamo un aumento ulteriore della presenza, dal 160% al 112% rispetto a ciò che è già presente in natura. Il prodotto ha una lunga shelf life, quindi qui non parliamo di frutto, parliamo di shelf life del prodotto, del Botector ovviamente, 18 mesi a temperatura ambiente e 30 mesi in frigo. Poi passando del tempo non è che il prodotto non scompare, il principio attivo scompare, assolutamente no, ma si ha una leggera riduzione di efficacia ovviamente, perché il numero di CFU non è più quello garantito in etichetta. I vantaggi del Botector quali sono? Uno è l'alta efficacia, può sembrare banale come discorso, ma in realtà non è così, perché essendo un prodotto biologico, molto spesso il prodotto biologico non dà tutta l'efficacia che magari ci aspettiamo, invece il Botector ha un'ottima performance sia su botrite sia su moniglie. Ovviamente nessun sviluppo di resistenze, zero carenza, zero residui, non sporca il frutto e per quanto riguarda gli insetti utili non abbiamo alcun problema nemmeno qui. L'etichetta, sei applicazioni all'anno, ovviamente in via preventiva come ci possiamo immaginare, perché sia le moniglie sia le botriti non sono funghi dove si può lavorare in maniera curativa. La dose è 500 grammi per ettaro, come abbiamo detto non ha carenza. Questo con il nome Botector New, oppure potrete trovarlo con il nominativo di Botector Orto, avrà l'uso emergenziale, probabilmente, anzi sicuramente, perché faremo richiesta dell'uso emergenziale, su Drupace di 120 giorni anche nel 2021. Questo uso emergenziale l'abbiamo già avuto nell'anno appena terminato, quindi anche nel 2020. Ok, rispondiamo subito a una domanda, visto che c'è anche il cambio di oratore. Chiedono appunto, dopo un periodo di forte caldo il Botector riprende a funzionare quando le temperature lo permettono. Chiaro che se ci sono 35-40 gradi, il fungo, cioè dipende dopo quando, dopo quanto tempo, dopo due o tre giorni, sì, riprende, però è chiaro che dopo un mese di caldo andrebbe ripristinato, insomma, anche perché poi il flutto è cresciuto e quindi sono nuove microlesioni da coprire. Poi, insomma, tu hai un'altra esperienza anche su vite. Sì, come persistenza d'azione su vite, quindi su botrite, fino a 20-25 giorni, anche con intervalli di giorni molto molto caldi, il prodotto funziona bene, molto molto bene. Quindi, naturalmente, ovviamente non un mese di caldo, ma se ci sono due, tre giorni, cinque giorni, anche due intervalli di due o tre giorni, non abbiamo alcun problema, il prodotto funziona allo stesso modo. Chiaramente in luglio-agosto è meglio darlo la sera, così il fungo ha il tempo tutta la notte per instaurarsi al meglio, insomma. Come tutti i trattamenti. Come tutti i prodotti anche vivi, tutti i trattamenti, insomma. Quindi la dose è mezzo chilo per ettaro per metro di parete fogliare, quindi di solito le drupace hanno un paio di metri di parete fogliare, quindi un chilo per ettaro. Tutte le prove che vedremo ora, che vi spiegherò, hanno questo dosaggio. Qui c'è un sommario, un riassunto di tutte le prove di efficacia fatte dal 2006-2017, dove era stato comparato una strategia chimica e una strategia combo-tector, sia come incidenza che come severità sulle drupacee, sulla moniglia, come potete vedere che l'efficacia è molto simile, se non anche più alta, rispetto a dei riferimenti chimici. Quindi, di conseguenza, adesso andremo a vedere anche le prove nel dettaglio per le varie drupacee, e Botector, come diceva prima Mauro, ha un'alta efficacia. Partiamo col mandorlo. Chiaramente la prova è stata fatta in Spagna, non perché in Italia non ce ne siamo, ma proprio perché in Spagna la coltura è veramente molto importante. E su, appunto, sempre dall'IRTA, lo stesso ente di prima, e in questo caso era stata confrontata una strategia chimica con piraclostobin più boscalid e fembuconazolo, e una strategia solo biologica con Botector, diciamo Botector, o una strategia, diciamo, a metà e metà, quindi chimica e biologica, cioè per avere un po' meno di residui alla fine. Il target era moniglia laxa, quindi la moniglia dei fiori. Nel grafico vedete i risultati, il numero di fiori affetti per albero, il 17 aprile. Come potete vedere l'efficacia del 62% nel chimico, 58-55% nelle strategie biologiche pure, quindi senza residuo, e 65% con la strategia integrata. Quindi un'ottima efficacia su moniglia. Questi i trattamenti sono stati fatti in fioritura. Come potete vedere qua, 61-65-69 vuol dire piena fioritura, e qui 69 è durante la sfioritura, e 73 è, diciamo, frutto grande come una nocciola, più o meno. Un'altra prova fatta sempre sul mandorlo, in questo caso erano i getti, fatta nel 2019, dove in questo caso è stato fatto come standard, sempre Fembu con azzolo e Boschelli più Piraclostrobin. E come appunto il Botector è stato fatto sempre a un chilo per ettaro, come dicevamo prima. E come potete vedere, qui è stato fatto in piena fioritura, e poi anche dei trattamenti finali. E anche qui statisticamente è uguale l'efficacia sia sul chimico che sul puro biologico. Questa era la percentuale di germogli infetti. Passiamo al ciliegio, in questo caso torniamo in Italia, una prova fatta nel 2016 in collaborazione con il Servizio Fitosanitario dell'Emilia Romagna, che questa poi è sfociata anche in una pubblicazione alle giornate fitopatologiche. Sono stati fatti in realtà due anni di prove, questa è una dei due. è stata fatta una prova per valutare l'efficacia nei confronti della monina del ciliegio di tre diverse strategie di difesa, sia su ciliegi fatti sotto copertura, antipioggia, sia fuori copertura. Chiaramente la pioggia è un plus per i funghi, e quindi si è voluto testare le due strategie. La tesi 2 era fenbuconazolo in due trattamenti, la tesi 3 un fenbuconazolo più due botector e la tesi 4 solo botector, sempre a un chilo per ettaro. Questa appunto la varietà era la Pins e in provincia di Modena appunto era stata fatta la prova. Blocchi randomizzati, quindi appunto anche statisticamente rilevante. Erano due impianti, uno di 20 anni fuori copertura e uno di 10 anni sotto copertura. Tipo di rilievo, appunto percentuale di frutti colpiti su un campione di 100 organi, 100 frutti per parcella. Ecco le prove appunto fatte sui ciliegi fuori copertura, in questo caso il 18 giugno 2016. Vedete che anche statisticamente, proprio la lettera diversa, il percentuale di frutti colpiti sul testimone era quasi del 18%, la tesi con fenbuconazolo era del 6,3% e la migliore è stata quella fatta con il botector. È chiaro che ci sono stati fatti tre trattamenti invece che due, quindi c'è un passaggio in più, però praticamente la tesi fatta con botector era pulita, in questo caso fuori copertura quindi alla mercè dell'acqua, della pioggia. Sotto copertura invece più o meno sono andati tutti uguali, sia il chimico che l'integrato che il biologico, e come potete vedere il testimone aveva meno chiaramente frutti colpiti, proprio perché siamo sotto copertura, mentre invece il fenbuconazolo 1% e la tesi diciamo mista 1% e 0,5% quella col botector, quindi anche sotto copertura il botector si è rivelato il migliore numericamente, in questo caso e non statisticamente. Quindi diciamo che sul ciliegio ha funzionato molto molto bene. Passiamo all'albicocco, poi rispondiamo alle domande, in questo caso è stata una prova fatta da una cooperativa, in questo caso Terre Merse, nel 2017 in Italia, su varietà Chiotoli, su Moniglia Laksa. Il protocollo era questo, in questo caso c'era un altro triazolo, tebuconazolo, folico, rugi, e in questo caso le applicazioni sono state fatte in fioritura, quindi sui fiori aperti, quindi per prevenire appunto la moniglia dei fiori. In questo caso tre trattamenti, sia per il chimico che per il biologico, durante il mese di marzo. 3 marzo, 13 marzo, 20 marzo, più o meno a una decina, 7 giorni di distanza l'uno dall'altro. Questi sono i risultati, sulla sinistra vedete l'incidenza dei fiori, su 200 fiori, praticamente il testimone aveva il 14% di fiori colpiti, lo standard chimico, cioè il tebuconazolo ne aveva 3, cioè ne aveva solo il 4%, quindi un 64% di efficacia, e il botector è praticamente uguale dal punto di vista statistico, quindi solo il 6% di fiori colpiti. Qui vedete un altro rilievo fatto invece un po' dopo, quindi al 6 di aprile, quindi circa una settimana dopo, e anche qui si nota appunto la differenza dal non trattato. Finiamo col pesco, non perché sia la meno importante, però insomma abbiamo così un panorama della moniglia su tutte le drupacee, non solo una drupacea, ma anche il susino, essere onesti, però insomma se avete bisogno di prova anche sul susino, ne abbiamo anche su quelle, e in questo caso era nel 2015, sempre in Emilia Romagna con il consorzio fitosanitario di Modena, in questo caso, e il target era la moniglia fruttigena su varietà Red Fire. In questo caso c'era un testimone non trattato, come al solito, un prodotto chimico, in questo caso il nome commerciale è Bellis Drupace, però i principi attivi sono i soliti, Piraclostrobin più Boscalid, due trattamenti il 29 luglio e l'11 agosto e tre Botecto, quindi un trattamento in più rispetto al chimico, il 18 luglio, 29 luglio e l'11 agosto. In questo caso appunto come vedete, è stata fatta anche un rilievo della shelf life, ovvero qui vedete il rilievo alla raccolta a tempo zero, quindi 4%, non era un grosso attacco, però comunque c'è una differenza, 4% di frutti colpiti sul testimone, 1% sulle tesi aziendali e Botecto. Poi sono stati presi questi frutti, sono lasciati 3 giorni e 5 giorni a temperatura ambiente, e come potete vedere praticamente il testimone si è avuto un aumento di frutti colpiti, 13-9% e in tutti e due i rilievi chiaramente sia l'aziendale che il Botecto sono andati molto bene. quindi diciamo che questo efficace l'abbiamo visto anche nella fragola, dove praticamente il Botecto ha anche un'azione sulla shelf life del prodotto, quindi anche quando uno poi va a vendere il frutto ha una durata migliore al supermercato. Bene, noi abbiamo finito con la presentazione, se ci sono domande oppure volete appunto delle maggiori informazioni potete scrivermi all'indirizzo email qui indicato, e quindi poi appunto noi saremo ben contenti di rispondere. Non so se Mauro tu vuoi aggiungere qualcosa, tanto guardo le domande. Mi senti? Sì. Stavo leggendo anche io le domande che faceva. Allora, per quanto riguarda quante volte consigliare il trattamento che chiede di Raffaele, sicuramente dipende naturalmente dalle condizioni ambientali e sul fiore effettuare un trattamento, anche due, magari uno a 30-40% fiore aperto oppure due trattamenti, uno a 20% o un 80% e poi sul frutto. Dipende un po' quando uno ha il problema, insomma, della moniglia. Ecco, noi diciamo che sul fiore agisce molto bene, avete visto, sull'albicocco funziona molto bene. Sul ciliegio anche. Sul ciliegio anche e anche magari sui frutti. Dipende anche quanto dura la fioritura e che umidità c'è durante la fioritura, mi vengono a dire. Molto dalle condizioni atmosferiche. Chiaro che, come dice Luigi, negli impianti ad Y la parete è maggiore, è vero, magari è due metri e mezzo, tre, in quel caso lì bisogna aumentare un po' il dosaggio. È mezzo chilo per metro di parete fogliare. Di solito si va a 1000 litri ettaro e quindi si usano circa 100 grammi per ettolitro, quindi il chilo ettaro di solito è meglio. Anche se la parete non è eccessiva, comunque il chilo per ettaro, a meno che abbiamo parete eccessivamente... Sì, magari per il noce per dire. Basta comunque in quanto sia una riproduzione del... Il fungo si riproduce automaticamente, cioè immediatamente, nell'arco di poche ore dal trattamento. Quindi non conviene esagerare con la dose perché sarebbe comunque uno spreco, insomma, perché il prodotto, riproducendosi da solo, il disorganismo non c'è bisogno di esagerare. Ecco, per quanto riguarda, appunto, per rispondere a Paolo nella chat, l'albicocco, pesco e cedio ci sono tutti in etichetta, qualora appunto si autorizzano l'uso emergenziale, ma insomma l'anno scorso non ci sono stati problemi. Quindi, a meno che appunto stiamo parlando del... Non so se vuole parlare di moniglia o di rame. Per quanto riguarda invece la bolla del pesco, noi consigliamo... Beh, chiaramente qui si parla di rame. E noi vediamo che i trattamenti prefiorali sono fondamentali. Forse quasi di più del caduta foglie. Però di solito un trattamento caduta foglie e uno o due prefiorali sono fondamentali. Tra l'altro negli ultimi due anni il rame su bolla del pesco è stato rivalutato proprio perché c'è un taglio continuo di principi attivi. Quindi noi appunto, la nostra strategia della bolla del pesco non cambia rispetto a quello quanto scritto in etichetta, però, insomma, abbiamo visto che appunto durante la prefioritura rottura gemme quelli sono fondamentali i trattamenti. Certo. Qui per rispondere a Brunelli, se ci dovesse essere una pioggia, no, non va ripetuto il trattamento, a meno che è una pioggia eccessiva, ma non tanto per la dilavabilità, perché magari una pioggia eccessiva, se il trattamento è stato fatto da diversi giorni, magari aumenta la suscettibilità alla moniglia. Comunque, come abbiamo visto prima, è un prodotto che con l'umidità si riproduce ancora di più, quindi non serve ripetere il trattamento, insomma, in caso di pioggia. Ecco, il Botector lo ha fatto sul frutto per migliorare la shape life? Chiaramente sì, perché anche qui non è un prodotto sistemico o altro, quindi va avvolto il frutto. È chiaro che se la moniglia è già dentro la tente, purtroppo non la occide, tra virgolette. Lui deve essere applicato in prevenzione. Certo. Quindi per quel motivo lì, l'ultima prova fatta appunto sul pesco, il Botector non è stato fatto in più alla fine, ma è stato fatto un trattamento in più prima, proprio per evitare eventuali infezioni latenti o un po' più precoci. Allora, equiparare un captano per la conservazione dei frutti, questo non glielo posso garantire, nel senso che non abbiamo mai fatto prove di confronto tra captano e aureo basilium pulnus, quindi il Botector. Però ha una buona efficacia. Ecco, noi abbiamo fatto la prova qui con il Bellis Trupace e quindi avete visto l'efficacia. Chiaramente col captano, insomma, sono state fatte delle prove su fragola negli Stati Uniti e avevano buona efficacia, però insomma andrebbero fatte anche nel nostro ambiente, quindi. Un attimo solo. Allora, i prodotti al momento, allora, l'immocide non è autorizzato su mandorlo, Botector in caso dovrebbe avere l'uso emergenziale. quindi al momento non sono autorizzati su mandorlo questi due prodotti. L'immocide probabilmente negli anni futuri lo sarà, proprio perché c'è anche un forte interesse in Spagna, quindi probabilmente lo sarà, però al momento non è autorizzato. Infatti, come avete visto, su l'immocide non abbiamo fatto vedere prove su mandorlo. Mi chiede Filella la compatibilità del Botector. Vi è la tabella di miscibilità sul nostro sito, comunque è compatibile con quasi tutti i fungicidi e insetticidi. Ovviamente, in caso ad esempio di miscibilità con rame, bisogna tenersi a dosi particolarmente basse, con lo zolfo è compatibile. Comunque c'è tutta la tabella di miscibilità sul sito. Perfetto. Se ci sono altre domande, altrimenti possiamo anche finire. Ripeto, qua ho scritto anche nella chat, comunque qualora vogliate del materiale, in PDF, chiaramente, del webinar, potete scrivermi un'email, a r.delfabrochiocciolamanica.com e ve lo forniamo. Ricordo che Mauro è disponibile per anche, dal punto di vista proprio pratico, qualora al centro-sud vogliate organizzare anche delle prove dimostrative, abbiate curiosità ulteriori, e io per il centro-nord. Sì, metteremo anche la registrazione del video su YouTube. Penso tra una settimana, ecco, tempo di elaborare un po' il video. ok, intanto lanciamo il sondaggio. Ci siamo. intanto vi ringrazio per aver partecipato a questo webinar e qualora appunto vogliate il materiale potete mandare un'email e per qualsiasi cosa siamo a disposizione. Bene. Vi ringrazio anche io per l'attenzione e la pazienza, sperando che sia stato un webinar utile per qualsiasi cosa. Noi siamo sempre sul territorio, presenti, con i nostri funzionali, insomma quindi qualsiasi qualsiasi problema tecnico ci siamo sia io per il sud sia Rolando per il nord e potete contattarci quando volete. Ok, grazie Mauro. Grazie. Ciao. Buona serata a tutti. Arrivederci. Buona serata a tutti.